TANVISON è partner dell'evento Benessere Giovane a vita ricca. Abbiamo dato consigli nello specifico come orientatori e come area addetta al risorso umano della TANVISON su come espinare il proprio pubblico in vita e la lettera di presentazione. Mi ha aiutato molto a scrivere più mille sul mondo del lavoro, su quello che potrei fare in futuro. Io ho conosciuto diversi anni che non ne ho conoscenze e soprattutto di come fare questo pubblico. E voi in un'azienda, del tipo di azienda che io posso rappresentare, dovete essere già nell'idea di poter essere eventualmente partner e che se le cose non vi vanno bene potete andare via perché siete così bravi che potete andare anche a voi. Se cresciamo assieme siamo tutti quanti felici perché qui c'è tanto bisogno di poter vivere. Esistono tante richieste di lavoro ma a volte è solo difficile creare il matching tra la comanda e l'offerta di lavoro. Il valore aggiunto di questi eventi è la possibilità di creare rete con le associazioni, le realtà locali e altre imprese. La possibilità di incontrarsi e formare un valore aggiunto che poi diventa un bagaglio sia dell'azienda che del territorio. Noi con questo progetto faremo di cura città e dove avrete la possibilità di farvi conoscere. Bene, diciamo sempre anche a questo, tramite la vostra ricerca e selezione del personale cerchiamo di far arrivare la risorsa all'azietà che la richiede. Ciao! Ciao!